Giardino degli Esperidi, borgo in festa, è una nuova proposta culturale dedicata alla terra di Calabria che aspira a prendersi cura dei luoghi che la animano. Il festival è stato promosso dal comune di Zagarise sotto la guida del giovane sindaco Domenico Gallelli e la direzione artistica di Maria Faragò. La tematica fondamentale di questo festival, il Giardino degli Esperidi, sta nell'ecosostenibilità. Quindi la paesologia anche in Calabria deve svilupparsi in questo senso e come amministrazione noi abbiamo puntato molto sulla ecosostenibilità e sull'impatto ambientale zero. Siamo un paese leader per quanto riguarda il compostaggio del rifiuto organico. L'obiettivo è chiaro. Anche nei piccoli comuni si riesce a fare turismo, si riesce a fare cultura, si riesce a promuovere e sponsorizzare un modello alternativo. Dal 13 al 15 novembre degustazioni, libri, musica, arte, natura, botanica, etnologia, gastronomia. Regina delle Arti sarà la conversazione partecipata di tutta la comunità di Zagarise, non più spettatrice ma chiamata a dialogare con i musicisti, poeti, scrittori, in un reciproco scambio di idee, in un percorso esperienziale che si propone di lasciare un segno soltanto, quello della bellezza dei luoghi e della comunità. Prendersi cura dei paesi come i luoghi in cui si può vivere con una qualità della vita altissima ritrovando dei valori antichi che abbiamo smarrito, riportandoli nella quotidianità.